Mi sposto in bici per venire a lavoro perché per me è molto pratico, accompagno anche un figlio a scuola e quindi ci divertiamo anche, ma è pratico perché non devo caricare la macchina di zaini. Uno dei motivi per cui vengo a lavoro in bicicletta è anche perché non devo parcheggiare, trovo sempre parcheggio e in 5 secondi lascio la bicicletta ovunque. Quando arrivo a lavoro in bicicletta mi sento soddisfatta e anche già piena di energia, in pace con il mondo devo dire, mi diverto e quindi da un inizio positivo alla giornata. In sede quando arrivo c'è tutto quello che voglio, sì, perché le rastregliere ci sono, forse una pompa nella zona dove parcheggiamo, ecco quella sì, e poi sì, c'è tutto. Se mi sento sicura nel tragitto che faccio, sì, mi sento sicura anche se non ho ciclabili perché ho imparato a conoscere il percorso e quindi l'alternativa, il marciapiede giusto, il parco, l'attraversamento e quindi sì, mi sento sicura nonostante non abbia le ciclabili. Bisogna superare il primo impatto e provare, magari farsi accompagnare da qualche collega, ma bisogna provare.